Come da titolo vediamo cosa succede nelle basse frequenze quando spostiamo la posizione delle nostre casse nel nostro ambiente di riferimento di ascolto. L'interfaccia tra diffusori e ambiente di ascolto dà una serie di effetti di interazioni che non sono solo in bassa frequenza ma sono su tutto il range delle frequenze. Le prime riflessioni molto importanti nelle frequenze medio-alte, il tempo di reverberate di 60, l'ass kick, il calcio, la pedata di ass, sono tutte cose che hanno a che fare con l'interazione tra ambiente e posizione di diffusore. Ma in questo video come da titolo ci occuperemo solamente del comportamento in bassa frequenza. Si tratta di leggi della fisica regolate da formule e formulette che io non userò perché altrimenti uno va a scuola e non si guarda un video su YouTube. Ma che tratterò nella solita maniera colloquiale tant'è che vi invito a portarvi a bordo di una darsena su un lago o al mare, di prendere un sasso e di buttarlo nel centro dello specchio d'acqua. Noteremo immediatamente, come ci aspettiamo tutti, una serie di cerchi concentrici di onde, guarda caso, che si irradiano dal punto dove è caduto il sasso concentricamente verso l'esterno, formando delle onde e delle circonferenze che man mano si allontanano dal centro verso l'esterno. Questo sembrerebbe essere il comportamento del woofer in ambiente? No, purtroppo no, è solo parzialmente simile. Sì, perché il sasso buttato nello stagno causa un'interazione solo su un piano, sulla superficie dell'acqua, che è una superficie piana. Invece il comportamento di un woofer nella posizione di partenza dal quale appunto partiamo, cioè in aria libera, posizionato non vicino a nessuna superficie, irradia non su una superficie piana ma su 360 gradi steradianti, cioè su un 4 pg steradianti, cioè su una sfera. La pressione del woofer ha effetti non solo davanti a sé, ma in tutta l'area intorno a sé. Teniamo ben presente una cosa, tutto quello che diremo da adesso in poi ha a che fare solo con le basse frequenze, diciamo dei 100 Hz in giù, e anzi è tanto più vero, tanto più la frequenza è bassa, e tanto meno vero, tanto più la frequenza si alza. Quindi abbiamo appena detto che un woofer montato in una cassa in aria libera irradia intorno a sé in maniera sferica, tant'è che spesso avete sentito dire che il basso è virtualmente omnidirezionale, possiamo metterlo dovunque, è abbastanza vero, a frequenze appunto molto basse. Ora però ritorniamo a bordo della darsena, chiedete a un vostro amico di andare a raccogliere il sasso in fondo al lago, oppure prendetene un altro, è molto più semplice, ributtatelo, ma questa volta non in centro al specchio d'acqua, ma lasciatelo cadere radente un muro, quindi a filo del muro della darsena stessa. Al cadere della pietra le onde si irradiranno non più in maniera concentrica, ma ovviamente solo da una parte, dall'altra parte c'è il muro, quindi non si possono irradiare e andranno tutte da una parte, guarda caso probabilmente con un'intensità, con un'ampiezza dell'onda doppia, in realtà non è proprio così, stiamo parlando di acqua e non di aria, ma la teoria vorrebbe qualcosa del genere. La stessa cosa accade col woofer, se da un posizionamento in aria libera prendiamo il nostro diffusore e lo appoggiamo a terra, quindi con una superficie che ne delimita il campo di azione, l'aria spostata dal woofer non sarà più libera di espandersi, di creare la pressione su tutta la sfera, su tutti i 4 pi greco terra di antri, ma solo su una semisfera, da terra verso l'alto. Questo vuol dire immediatamente e intuitivamente che la pressione sonora sarà ben più alta di quella che avremmo avuto quando il woofer è posizionato in alto, in aria e non appoggiato a una superficie. Ci rendiamo immediatamente conto quindi che spostando un alto parlante, un woofer, dall'aria libera vicino a una superficie che può essere il pavimento ad esempio, o anche la parete posteriore se noi l'avvicinassimo contro una parete, otteniamo un netto aumento della risposta nelle basse frequenze, per i motivi che abbiamo descritto empiricamente fino a poco fa. Ma facciamo un passo avanti, se invece di appoggiarlo vicino a una superficie lo appoggiamo vicino a due superfici, ad esempio a terra ma contro la parete, quindi abbiamo la superficie del pavimento e la superficie della parete. In questo caso stiamo dividendo la sfera dove teoricamente il woofer andrebbe a spingere l'aria, la stiamo dividendo non solo per metà ma anche per un'altra metà, quindi per un quarto, e guarda caso un woofer posizionato in un angolo con due superfici ha ancora un incremento superiore nella emissione di basse frequenze, in pratica sentiremo più bassi. C'è ancora una terza posizione, una posizione limite se lo mettiamo veramente nell'angolo della nostra stanza, quindi pavimento, parete laterale, parete laterale. Vale lo stesso discorso fatto fino adesso ma è ancora più esasperato, la pressione, l'aria spostata dal woofer non dovrà riempire una sfera intorno a sé, non dovrà riempire una semisfera come se fosse appoggiato a terra, ma addirittura si concentrerà solo in uno spicchio quello che dall'angolo si irradia verso di noi. Di quanto è questo gain, questo aumento di basse frequenze a seconda che lo mettiamo su 2π, 1π o 1π? Allora la teoria vorrebbe che ogni dimezzamento della superficie steradiante ci siano 6 dB in più di pressione acustica, attenzione a non fare confusione tra pressione acustica SPL, lasciamo perdere. Si tratta di teoria anche perché se seguiamo la teoria il woofer dovrebbe essere messo esattamente a filo con la superficie, già solo il cabinet, il mobile di altoparlante fa in modo che il woofer non sia esattamente a terra. Quindi accontentiamoci di questa formula molto empirica. Avvicinando un diffusore a una superficie, il pavimento o la parete posteriore, abbiamo un raddoppio delle basse frequenze. Se la avviciniamo a due pareti, quindi la mettiamo in un angolo composto da due sole pareti, abbiamo 4 volte tanto. Se lo mettiamo in un angolo a terra, quindi se nostra moglie ci obbliga a mettere casse nell'angolo in basso a terra, abbiamo un netto aumento di basse frequenze, di parecchi decibel. Qualche implicazione di questo comportamento strano di altoparlanti che abbiamo in realtà incontrato tutti, ma forse non ci abbiamo fatto caso o non ce lo spiegavamo. Ad esempio, chi ha dei monitor da studio, o forse anche in qualche cassa di alta fedeltà, avrà notato che c'è un interruttore dietro che va posizionato a seconda di quale sia la posizione fisica del monitor da studio. Quindi se è appoggiato vicino a una parete, se è in un angolo o se è in area libera. Questo serve appunto per fare in modo che l'elettronica interna, sono casi attivi normalmente quelle che hanno questi accorgimenti, compensino questo aumento o questa diminuzione dei bassi a seconda che l'altoparlante sia vicino o lontano da superfici. Un'altra implicazione è ecco perché i subwoofer sono così efficaci nel riprodurre basse frequenze, non solo perché sono studiati appositamente per quello, quindi volume, accordi, sono studiati ed accordati esattamente sulle basse frequenze, ma perché guarda un po' il subwoofer, voglio vedere chi non l'ha appoggiato per terra. E per terra è un posto molto adatto per aiutare un woofer a riprodurre le basse frequenze in modo che vengono sentite in maniera più poderosa. E ancora potreste tenere presente questa faccenda che abbiamo appena detto, se e quando andate ad ascoltare delle casse nel negozio che ve le sta vendendo. Allora vorrei fare precisazione, il pubblico di questo canale che sta aumentando e che ringrazio moltissimo, è composto per la metà di utenti professionali, quindi che si occupano dell'audio per professione, e per un'altra metà da audiofili. In realtà il canale e il sito, il microfono al quale io faccio riferimento è dedicato all'audio professionale, ma visto che sono in tanti audiofili a seguire il canale, ovviamente cerco di trattare argomenti che riguardino entrambi i campi quando possibile. Ecco, quando andate in un negozio, se il negozio è di alta fedeltà è difficile che vengano fatti ascoltare delle casse posizionandole in un angolo, in modo da rinforzare le basse frequenze. Invece quando si va ad ascoltare diffusori professionali, per professionali intendo anche le classiche casse dal karaoke fino alla discoteca o per il public address, ecco lì non c'è questa cura nel posizionare i diffusori, ed è possibile che una coppia di casse venga posizionata nell'angolo a terra per farla risultare più robusta, più cicciona nelle basse frequenze. Quindi fate attenzione alla posizione dei diffusori quando li ascoltate, perché la posizione, come abbiamo visto, incide molto sulla risposta in frequenza sulle basse frequenze. Si può usare questo accorgimento per far suonare delle casse prive di bassi, farle diventare ricche di bassi? Sì, se non hai altre soluzioni, sappi che, riassumendo quello che abbiamo detto fino adesso, un diffusore dotato di woofer, emette sempre la stessa quantità di bassi, ma la sua posizione in ambiente farà in modo che noi ne percepiremo una proporzione molto maggiore a seconda di quante superfici lui ha vicino a se stesso. Quindi, una, pavimento, due superfici se le mettiamo vicino a un angolo di 90 gradi, tre superfici se le mettiamo in un angolo a terra o a soffitto, e quindi in pratica modifichiamo la sua impedenza di radiazione e ne otteniamo un boost, un aumento in frequenze basse. Ora lascio il campo a chi ha l'orgasmo, peraltro giustificato, di scrivere nei commenti come stanno le cose con formule e formulette, farà un piacere non solo a me, ma a tutti quelli che avranno la voglia di seguire formule e formulette. Io per il momento mi accontento di quanto vi ho detto, vi saluto e vi ringrazio. A presto.